Non so, c'è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute gli dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d'accordo. Secondo lei ha fatto bene ieri il Napoli a non andare a giocare a Torino? Non do giudizi, se esistono dei regolamenti, quei regolamenti dovrebbero valere per tutti, Napoli compreso.